Ciao a tutte e bentornati in questo nuovo video! Oggi non vedrete il classico video di esercizi, ma un tutorial sui piegamenti! I piegamenti sono uno degli esercizi più ostici e più difficili, soprattutto per le donne, o almeno per me lo è. Quindi ho pensato in questo video di illustrare un percorso step by step su come eseguirli, partendo dalla soluzione più semplice fino ad arrivare alla soluzione che tutti siamo abituati a vedere, ossia i piegamenti su solo appoggio di mani e piedi. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Iniziamo con il primo step, quello di eseguire i piegamenti su un rialzo, che può essere il muro o una sedia o anche il tavolo. Ovviamente l'esecuzione diventa più difficile a mano a mano che il rialzo diventa più basso, quindi se non siete abituati a fare dei piegamenti vi consiglio di partire con un rialzo più alto che può essere il muro. Partiamo appoggiando le mani sul nostro rialzo, in questo caso una sedia. Ci mettiamo in posizione assicurandoci di avere il bacino della transgressione e non in questo modo, quindi addobbe contratto. Da qui iniziamo piegando i gomiti. La cosa importante è che i gomiti vadano indietro e non all'esterno in questo modo. Ovviamente per semplificare maggiormente l'esecuzione dei piegamenti potete poggiare le mani sullo schienare anziché sulla parte bassa della sedia. Passiamo allo step numero 2, i piegamenti con le ginocchia poggiate a terra. In questo modo inizierà a farti sentire un po' di più il lavoro sulle braccia, ma avendo le ginocchia piegate, la maggior parte del nostro peso viene scaricato a terra. Passiamo ora allo step numero 2, i push up con l'appoggio delle ginocchia a terra. È importante in questo caso non partire in quadrupedia, quindi in questo modo, ma le mani dobbiamo farle avanzare un pochino di più in maniera tale da portare il peso sulle nostre braccia. Le ginocchia rimangono piegate, siete poi voi a decidere se tenere i piedi sollevati in questo modo o a terra. È indifferente. La posizione deve essere comoda a voi. Da qui partiamo, scendiamo verso il basso, cercando di mantenere anche in questo caso il bacino in retrogressione, quindi addominali contratti, non portate il sedere in cuore, ma in dentro. Anche la cervicale gioca un ruolo chiave, quindi non tenete la testa troppo alta, né ciondolante giù verso il basso, ma deve rimanere neutra. Quindi guardate un punto davanti a voi e pigate giù. Ovviamente decidete voi quanto pigare. L'idea sarebbe quella di arrivare con il petto più in basso possibile. Step numero 3. Push up in sola fase eccentrica. Iniziamo in questa fase a condizionare un po' di più il nostro corpo. La posizione di partenza è quella della posizione plank, quindi con il solo appoggio di mani e piedi. Scendiamo fino a toccare con la pancia a terra e ci risolleviamo su con l'appoggio delle ginocchia a terra. Passiamo alla fase numero 3. Piegamenti solo in fase eccentrica. Ci posizioniamo in posizione plank, quindi solo in appoggio di mani e piedi. Da qui, stessa cosa, le mani sono sotto alle nostre spalle, non in avanti, in maniera tale da gravare il più possibile con il nostro peso sulle mani. Da qui, scendiamo verso il basso. Poggiamo a terra il nostro petto, puntiamo le ginocchia e ci solleviamo su in questo modo. Ritorniamo in posizione di partenza, gli addominali sono contratti, scendiamo giù, poggiamo, ginocchio a terra e torno su. E ricomincio. Giù. E su. Step numero 4. È praticamente l'esercizio opposto a quello che abbiamo visto prima, ossia i push up solo fase concentrica. Faremo il movimento contrario, quindi partiremo con le ginocchia appoggiate a terra, scenderemo giù con il petto e la pancia a terra e ci solleviamo verso l'alto con il solo appoggio di mani e piedi. Partiamo con le ginocchia applegate. Da qui scendiamo con il petto verso il basso, quindi ci appoggiamo, puntiamo i piedi e con le mani vicino al nostro petto ci diamo la spinta per tornare su, in questo modo. Poi torno con le ginocchia appoggiate a terra, piego, punto i piedi e torno su. Questa fase è un pochino più complicata rispetto alla precedente. I gomiti, come sempre, si piegano indietro e non all'esterno. Step numero 5 è l'ultimo step, quello in cui andremo ad eseguire i piegamenti con il solo appoggio di mani e piedi. Passiamo finalmente all'ultimo step, ossia la fase numero 5, quella in cui andremo ad eseguire il piegamento classico. Quindi, l'appoggio è soltanto su mani e piedi. Anche qui, addome contratto, cervicale, zona cervicale neutra. Scendiamo giù e ritorniamo su. La cosa importante qui, non necessariamente dovete arrivare con il petto a sfiorare terra, non è importante, ma anche solo se riuscite a fare il mezzo piegamento, va benissimo comunque. A mano a mano che prendete confidenza con l'esercizio, potete poi usare e scendere un pochino più in basso. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Nel frattempo vi invito a condividerlo con una vostra amica. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!